Musica Abbiamo iniziato ieri un'altra tappa, un altro pezzo direi, del nostro mosaico sul cammino verso la felicità e l'abbiamo iniziato con una riflessione sulle lacrime, meglio sul dono delle lacrime. Quanta gente piange? E quando io dico piange non intendo solo quando dai nostri occhi escono le lacrime, quindi ci bagniamo il viso che gli altri ci vedono, c'è un proverbio africano che dice una grande verità, e cioè quando i pesci piangono nessuno li vede, eppure piangono. Quanto il nostro cuore piange e non ci sono lacrime esteriori, nessuno li vede. Le lacrime sono il segno più grande della nostra umanità. Le lacrime sono il segno vero di un cuore che non solo è addolorato o soffre, ma anche di un cuore innamorato, di un cuore stupito. Io ho un amico che si commuove per nulla, ma per tutto. All'inizio non riusciva a capire, ma lui anche se vede un bellissimo tramondo, oppure un arcobaleno come è successo, il suo stupore si traduce e si visibilizza in lacrime. All'inizio lo prendeva anche in giro, ma poi ho capito la profondità e la sensibilità del cuore di questo mio amico. Questo per dirvi che le lacrime sono una realtà sacra, sono una realtà che noi dovremmo continuamente non solo rispettare, ma anche venerare, perché poi ognuno di noi piange nel suo cuore a modo suo. E perché le lacrime sono un dono? Perché fanno parte della nostra vita. Quando noi nasciamo, pur se è vero che il bambino, quando nasce il neonato, non ha le lacrime, ma le lacrime più o meno appaiono verso i tre mesi, ma il bambino quando esce fuori dal grembo materno e viene accolto nel grembo del mondo, grida. Noi diciamo piange. Quello è il pianto di un bambino che abbandona un mondo, delle sicurezze, e se ne affaccia in un altro. Questo per dirci quanto sono importanti le lacrime nella nostra vita, perché fanno parte della nostra vita. Quante volte io stesso ho asciugato le lacrime di uomini, donne, di bambini e di giovani che hanno esalato l'ultimo respiro, che sono morti e poi dai loro occhi sono uscite delle lacrime? Ecco che le lacrime sono il passaggio dal grembo materno al grembo del mondo e al ritorno del grembo e nel grembo del padre. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!